Grazie Siamo dietro, 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 dietro e dietro Siamo dietro, di non costruire confusioni, questo l'appello ha riposto soprattutto ai giornalisti che stanno facendo dei capannelli intorno alla sindaca la sindaca se vuole partecipare, si può affidare, dietro lo spessore degli abitanti di questo territorio che hanno organizzato e promosso questo conteo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti